Beh, innanzitutto ci vuole sensibilità, bisogna capire che i titolari di partita IEVA sono delle piccolissime, delle micro imprese e quindi alla stessa stregua devono ricevere gli stessi aiuti, devono avere gli stessi supporti e soprattutto devono essere considerate alla pari quindi questo a mio avviso sarebbe già un grandissimo passo in avanti. Sulle semplificazioni noi abbiamo una necessità impellente di semplificare il nostro sistema di regole, soprattutto la parte operativa quindi bisogna sburocratizzare ma cercando di rendere facile il colloquio con la pubblica amministrazione che è troppo astruso questo tipo di contatto e soprattutto tutta l'ingente serie di impimenti che si devono porre in essere per ottenere un servizio.